Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza. Eppure noi continuiamo a leggere commenti che indicano l'imprudenza come possibile causa di uno stupro. Questo ci dice tanto della cultura di questo paese, di tante persone in questo paese, di una cultura che va profondamente cambiata. Ecco, la violenza si combatte con tanti strumenti, ma prima di tutto occorre abbattere un muro di stereotipi, di linguaggi sbagliati, di cultura maschilista, sessista e a volte misogina. Per questo, come deputate del Partito Democratico, oggi abbiamo scritto all'ordine dei giornalisti. Questa volta non ci bastano le scarpette rosse, ci aspettiamo di più. Noi vogliamo che tutti i media, insieme a noi, si impegnino in una rivoluzione delle parole. Molte giornaliste sono già impegnate su questo, siamo con loro, ma chiediamo davvero un salto di qualità a tutti i media. Cambiamo le parole e con parole nuove sconfiggiamo la violenza.